Ok, vai, iniziamo Qua io ho quella semplice semplice Dove puoi pronotare una call Con Acuity Scheduling Ok, quindi non ho nemmeno l'opt-in page Con una web Ora poi la faccio anche quella lì Però quello lo faccio quando Diciamo così Do gratuitamente un video Dove spiego agli imprenditori come Diciamo gli errori che fanno quando scelgono Un videomaker Che tra l'altro è un tipo di video che non esiste Non l'ho mai visto, quindi spiego il discorso del marketing L'importante è avere una persona Una preparata, di pagarlo Insomma, tutta una serie di cose Quindi questo lo sto costruendo Ma già ho avuto i primi risultati Con la pagina quella semplice di funnel Come ti stavo dicendo E quindi io vorrei risolvere Un problema che ho da sempre in realtà Che io odio fare Che è quella lì del, come ti dicevo Del preventivo E mi sono reso anche conto Che tantissime volte E poi comunque ci sta anche Vendere di format Perché comunque i clienti mi stanno già chiedendo Quello che sto facendo io per me Quindi io mi sono reso conto Che ho già dei format che ripeto Quindi quello che ne sono Dei tutorial Che lo puoi usare sia per YouTube Anche per Facebook Anche per il televisore Quindi video dove L'imprenditore ci mette la faccia E faccio vedere anche che cosa fa Quindi insomma è una cosa figa O gli spot video che possono essere Da 15, 30, 60 secondi Sia per le ad che per qualsiasi cosa Comunque la combo spot video E le ads È una cosa che già sta iniziando A funzionare Che me la stanno chiedendo E poi tipo può essere anche Il video evento Per dire che già ne ho fatti diversi Che comunque me le stanno chiedendo I video eventi Con una o più persone a fare le riprese Oppure anche i vlog Per dire un altro format Quindi ci sono quei 3-4 format Volendo anche 5 Che sono sempre soliti E che io so Quanto ho da chiedergli A un cliente Ok? E non si parla nemmeno di preventivi Da 10.000 euro Ma molto meno Si parla di Ok Quindi tu vorresti automatizzare Questo processo Sì io vorrei automatizzare Questo processo Perché io mi sembra Una cosa stupida Che ogni volta devo fare Il preventivo ex nuovo Dove ovviamente C'è un template Però anche se lo mettimi lì A fare il copy and call E cambiare alcuni dati Mi sta proprio di così noioso E poi comunque sia un qualcosa Di stile offline Capito? Quindi io ti dico Poi dimmi tu Perché io non sinceramente Lo sto provando Io avevo in mente Di fare una sales page Allora Cosa ne pensi? Ci sta a fare una sales page Il problema è che Quando fai un preventivo Più o meno deve essere personalizzato Perché non tutti hanno Le stesse esigenze Ok? Quindi ci sta Magari tu devi dare Delle indicazioni Su quel preventivo Che ne so Fai un preventivo per gli eventi Sai che ci vogliono Che ne so 15-30 riprese Boom Sei a posto Quindi di fare più preventivi Già preimpostati Nel senso che Cioè io farei questo Al posto tuo Farei che ne so Preventivo eventi Che potrebbe essere Tre giorni Dove tu sei impegnato Tutta la giornata Con loro E fare un tipo di preventivo Poi ne fai tanti Capito? Ne fai tre o quattro Spot Poi il cliente finale Va a decidere Quale preventivo Ti deve richiedere Ovviamente lo metti sotto Che ci possono stare Dei cambiamenti Dei riferimenti diversi Magari c'è qualcuno Che c'è qualche Che ne so Richiesta specifica E quella va nel Nel sommare Quello che dovresti fare Non so se Sì 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 Come quasi Come upsell Esatto È un upsell È un vero e proprio upsell Ok Quindi dovresti fare Una cosa del genere Io farei Una pagina unica Per esempio Cioè Che ne so Una pagina dove ti presenti Unica E poi sotto Magari metti Vari tipi preventivi Che ovviamente Io farei Uno Basic Lo chiamerei magari Perché metti Che ne so Un giorno soltanto Un tipo di ripresa Per un evento Esatto Quelli può essere che Ora io non sono Abbastanza tecnico Nel tuo lavoro Del tipo Non sono un videomaker Quindi non so Esattamente Dovrei entrare Più nel merito Come? Se vuoi ti do Ti dico adesso Dei esempi Per aiutarti In questo ragionamento Sì vai vai Guarda io ieri Mi sono messo A diciamo così Nella lavagna magnetica A scrivere alcuni Cioè mi sono messo Un po' a snocciolare I vari Tipi di servizi Che ti ho citato prima Quindi o video evento O tutorial O spot E così via E tipo mi è venuto in mente Che ci sono In alcuni casi O due o tre Tipologie E per categoria Quindi ci può essere Dell'evento C'è il video Che ne so Start Poi c'è il pacchetto C'è il pacchetto start Pacchetto plus Premium per dire Quindi o due o tre In base al tipo di Tipo di video E ovviamente Che ne so Lo start C'ha Quattro ore di riprese Oppure Sei ore di riprese Un operatore Video finale Due minuti Tre minuti Ah ok Ottimo Perché tanto Perché alla fine Le variabili dei costi Quali sono Quanto Perché purtroppo Cioè il discorso è questo qua Non è un videocorso Ok O non è un evento dal vivo Dove ci puoi riempire la sala Quanto vuoi Ma praticamente È tempo per denaro Purtroppo È questo È tempo per denaro Quindi Ma ti sei già fatto Un budget Più o meno Quanto ti costa A te fare Un video Cioè dimmi il tuo costo Più o meno Certo Certo Assolutamente Ad esempio Per i video tutorial Dove praticamente Quello Diciamo Le variabili in campo Sono Le riprese Fatte in studio Figo Con le luci Figo Audio Figo Alla persona E poi tutte le immagini Di copertura Che si chiamano In gergo B-roll Dove praticamente Vai a Riprendere Tutto quello Che va a fare La persona Nel suo negozio Attività e così via Sono praticamente Io ho fatto questo conto Che sono 600 euro A singolo video E un video Può durare Almeno 5 minuti 5-6 minuti Può durare anche 7 minuti Ovviamente non 15 minuti No Diamo dei 5 A 7 Ma nei 600 euro Nei 600 euro Sono i tuoi costi fissi O sono i costi Del tuo cliente Cioè Tu gli chiedi 600 euro Il tuo cliente O sono i tuoi costi fissi No Allora Sarebbe il prezzo finale Ok 600 euro Il costo finale E mi va bene Questi 600 euro Quello che ti voglio chiedere Certo Quali sono i tuoi costi Ma allora I miei costi Sono praticamente Fare Avere Io O qualcun altro Che fa le riprese Praticamente In studio E poi dopo Le riprese Sul campo E poi dopo C'è il montaggio Quanto ti costa Qui si entra In un discorso Molto vario Perché Personalmente Io sono uno di quei Videomaker Che si fa pagare Abbastanza Fortunatamente Una giornata Di riprese Dalla mattina Alla sera Puoi trovare Quello che te le fa 300 euro al giorno O quello Tipo come me Che già ti chiede 600 euro Una giornata Però Questo prezzo qua Infatti per questo Che voglio fare La sales page Dipende tanto Da come ti presenti Perché tu puoi costare Il CA Io ti chiedo Io ti chiedo Non voglio Non voglio sapere Quanto paghi Il tuo operatore Ok Non mi interessa sapere Mi serve sapere Se il prezzo Che chiedi Per esempio Nei 600 euro Mettiamo che Il tuo profitto È 50 Cioè il tuo Costo La tua La tua spesa Totale È 50 euro Tra operatore Eccetera Quindi tu A questo punto È 650 euro Da spendere Per acquistire Il tuo prossimo cliente Cioè 5,50 Ok Sono 5,50 Per acquistire Il tuo prossimo cliente Ok È questa la logica Capito Che dobbiamo Comprendere Cioè tu hai 550 euro Per il tuo prossimo cliente O ne hai 50 Solo per acquistire Il tuo prossimo cliente Bello Sinceramente Non ci ho mai ragionato In questi termini Perché è molto importante Perché più soldi Hai per acquistire Il tuo prossimo cliente Più sei avvantaggiato Con i tuoi competitor Perché l'obiettivo È accumulare Più soldi possibili Per posizionarti meglio Scusa Aspetta che me lo segno Aspetta Oh fighissimo Comunque E questa È una delle cose basiche Che non insegna Quasi nessuno Forse Grande Grande Cioè l'obiettivo È L'obiettivo è Avere sempre più soldi Del tuo competitor Beh allora è facile Perché videomaker Nessuno investe in ads Come già sto facendo io Queste cose qua Ok però se devi entrare In un contesto Non più italiano Ma internazionale In quel contesto Tu sei in svantaggio Perché ci sono videomaker Che chiedono il triplo Il quadruplo di te Anche se non sono Magari competenti Quanto te Perché poi La questione di essere Pagati più e di meno Non è una questione Di competenza No ma è percezione E marketing Esatto Per questo che voglio fare La 6 page figa Non ce l'ha nessuno Perché se Cioè ok ok Comunque allora C'è il primo punto È questo qua Che io praticamente Quindi la domanda Che mi devo chiedere è Allora la questione Su 600 euro Quante ne guadagno io Veri Cioè che ne so Quante Allora La domanda iniziale Su 600 euro Quanto ho di spese Magari su 600 euro Ho solo 50 euro di spese Quindi lo step successivo Che ti devi domandare Io su 550 euro Ho questi 550 euro Quanti clienti riesco a fare E se il singolo cliente Mi costa 550 euro Oppure ti costa meno Ok ok Quindi devi capire Prima di tutto Quanto ti costa il singolo cliente E quanto ci guadagni Sul singolo cliente E poi lo step successivo È Quanti soldi ho Per acquistare Per acquistare il mio prossimo cliente Quindi di quei 550 euro Magari il mio cliente Avendo più piani Tu hai Decidi di avere Il primo piano Da 600 Il secondo Penso che sia il doppio Come minimo Allora io Diciamo così Io ti ho dato il prezzo Del singolo tutorial Ma io lo volevo vendere Ma io lo volevo vendere a pacchetto Ok Quindi significa che Come minimo Mi fai Come minimo Facciamo tre tutorial Non di meno Ok Quindi sarebbe 6, 12, 18 Parte da 1200 euro No 6, 12, 18 1, 18 1, 8 1, 8 Aspetta Allora Il pacchetto Il primo pacchetto 1, 8 Mi stai dicendo Sì Il secondo E poi l'altro pacchetto Poteva essere Che l'avevo segnato Da 6 Da 6 quindi Eh praticamente 3, 2 3, 2 Ok Aspetto un attimo 3, 2 E il terzo Ma il terzo Uno può fare Può fare 10 No no Nel senso Io me l'ho fermato A 3 A 6 Però un cliente Mi può Un cliente più grossi Mi può chiedere 10 L'unica cosa È che io Non voglio Cioè a me mi dà Molto molto fastidio Questa cosa qua Che c'è nel mood Sembra di Di quando Questi finti Imprenditori Oppure che Vabbè Che ci provano Sempre Che praticamente Sembra che giocano Al mercato No E quindi diciamo Si comportano Cioè uno dice Vabbè Ne faccio di più Spendo meno No Ok Non è così Perché Non è come Quando tu Hai un B2B E tu che ne so Rivendi i telefoni Ne compri Che ne so Di nuovi Ne compri Che ne so 500 Allora Invece di farteli pagare Al prezzo 600 Te le faccio pagare Che sennò 5,50 Quindi hai Che poi 50 euro Su 600 Già è una buona cifra Per Di sconto Comunque Però non può Cioè uno Non mi può Ma quella che sono Infatti Io tipo Nel 2019 Non ne ho accettati uno Così Quindi già va bene Però Cioè questa gente qua Che ci prova Vabbè Ne facciamo un po' di più Mi fai lo sconto Oppure Cioè Quasi Scontato Che Uno deve fare lo sconto Cioè Assurda Ma io te lo dico Non perché sono Diciamo così Frustrato Ma perché Non si può fare questo ragionamento Si Qualcosina Potrò io Ottimizzare Perché Io so che ne devo fare 10 Però comunque Sono 10 Non è che Il tempo mi si dimezza O un 20-30% Di tempo Ne faccio a meno Calcola che Quello Fa parte del tuo posizionamento Quindi Quando fai un posizionamento Sul web Devi far capire Che Non sei Il classico Diciamo La classica persona A cui chiedere lo sconto Devono percepire La tua competenza E quella competenza Cioè Quando uno è competente A un dottore Non gli vai a chiedere lo sconto Per fare un esempio Hai ragione Bravo Ok Quindi È quella la percezione Forse è una questione di percezioni Che devi Devi diciamo Sistemare un po' Magari Sono i tuoi clienti Cioè Quando è fatto la sales page Per esempio Quando è fatto la sponsorizzata Su Facebook Magari Non è stato così D'impatto E così forte Da far percepire Che Non sei il tipo Da sconto Che Costi tanto E vali tanto Forse è quello che devi Ma io sai Prima non l'ho mai fatto Prima non l'ho mai fatto No ma infatti Io ti dico Ne parlavo giusto Guarda Ne parlavo giusto Ieri con mio padre Dove dicevo Tipo Pubblicato Mi pare ieri Un video su Instagram Che praticamente È un video recap Dei allenamenti Del superbike Del superbike Di Ducati In Spagna E l'ho girato A dicembre Del 2017 Ok E poi l'ho montato Nel 2018 Quindi si parla di quasi due anni fa Cioè io praticamente Ora a parte Diciamo così Che nel 2019 Io ho fatto molti meno video In proporzione Ma ho studiato tantissimo marketing Quindi non è che Come dire Ho avuto periodi di depressione Oppure non ho fatto un cazzo Quindi comunque Ho fatto tanto Sono reso conto Praticamente Che se tu non fai marketing E non continui a lavorare Costantemente sul canale YouTube Fatto in un certo modo E tutto quello che mi stai dicendo tu Praticamente non riesci A avere potere di vendita Ah no È impossibile È impossibile infatti È impossibile Perché la gente si dimentica Di chi sei E di cosa fai Alla fine Esatto Guarda soltanto A quanto risparmia O quanto deve spendere Esatto O investire Ritornando a quello che dicevo L'altro giorno Alla fine Noi ricordiamo Solo il 10% Di quello che facciamo Durante una giornata E poi veniamo Tartassati Continuamente Di informazioni Di dati Quindi è normale Che tutto quello che Magari Dovrebbe essere rilevante Diventa irrilevante Nel lungo periodo Tornando alla questione preventivi Tu ne hai due Giusto? Sì sì Almeno due Sì sì Almeno due Ok Iniziamo con questi due Ok Allora Tu Non mi sai dire Su 1800 euro In realtà Quanto ti costa il cliente O quanto è il tuo margine Di profitto Ma allora Guarda Io sinceramente Lo possiamo fare Anche in questo momento Ma Sinceramente Sai una cosa Cioè io posso Scorporartelo Il prezzo Cioè quanto ci vuole In ore E poi te lo ritratuco In soldi Però io Guarda Questo ragionamento Che mi hai tirato fuori tu È fighissimo Infatti Secondo me È l'approccio Che devo avere Da qui in avanti Perché E questo è un altro problema Che io ho visto E che voglio assolutamente Risolvere Ed è questo Ok Praticamente Ti proprio ti spiego Quando tu Che ne so Compri Guarda Facciamo proprio L'esempio Dei telefoni Che ce l'ho avvicinato Visto che c'è un cliente Di Apple Che comunque Conosco bene Il loro mondo Se tu praticamente Compri un telefono nuovo O un Mac nuovo E lo devi rivendere Tu hai praticamente Il prezzo Del rivenditore Che vende soltanto Agli altri business E poi dopo Il resto Si chiama Roy O Roast Dipende come lo vuoi chiamare Ok Ed è il margine Che riesci ad avere Per venderlo Al prezzo di mercato Ora Il prezzo di mercato In questa cosa qua Lo fa Apple stessa Apple Ok Quindi Apple fa quel prezzo lì Se tu lo compri Da rivenditore Generalmente L'azienda Che poi lo vende Al pubblico Ha un margine Del Che ne so Del 20% 20-30% Non di più Sul nuovo È già 30% È tanto Capito Ok Ok Quindi sostanzialmente In base Cioè quindi Per niente che ne so Be Apple Se lo vende al pubblico Con il 10% di sconto Cosa che succede Tipo sul MacBook Pro Sulle Mac Lo vende rispetto a Apple Con il 10% di sconto Comunque Loro hanno un margine Di qualche Centinale di euro Tipo 100 200 300 euro A prodotto Senza diciamo Fare niente Tra virgolette Perché Il venditore Gliel'ha apprezzato A quel prezzo lì Fine Quindi Probabilmente Dropshipping Sostanzialmente Proprio dropshipping Quindi il pezzettino Che gli rimane È il Il netto Che poi ci devono Pagare le tasse E poi quello che gli rimane È quello che Possono investire Tu quello che vuoi Vuoi cercare di fare È abbassare Il margine Di Di spesa Nell'acquisizione Del cliente No guarda Io sinceramente Guarda In questo momento Anche con le Facebook Ads Io Da come ho imparato Anche da altri Non mi interessa Vabbè Sicuramente Ovvio Che se uno può dimezzare Il cost per lead Ci mancherebbe Però A me interessa Come ne parlavo Con un altro ragazzo Della qualità Delle persone Che mi arrivano Cioè se io Con le Facebook Ads In questo caso Spendo anche 20 euro 30 euro Per una persona Però quella persona lì Mi porta 10.000 euro Di fatturato Qual è il problema Ok Il problema è che Avendo margini Molto ristretti Cioè parliamo Comunque di Su un Macbook Che Quanto lo rivendono A mille euro Più o meno No ma se tu Se tu metti Se tu prendi Un Macbook Pro Anzi Si facciamo un Macbook Pro Quello base Costa Il 13 pollici Costa 1800 euro Ok 2800 euro No 1800 1800 euro Scusami 1800 euro Ok Loro ricavano il 20% Aspetta che mi sia È morta una cuffia Allora Su 1800 euro Loro hanno il margine del 20 Ok vabbè Va bene 200-300 euro Si In questo caso Il problema È Acquistire nuovi clienti Sempre No no Allora Ovviamente io ho preso Io voglio capire Il problema real Cioè tu cosa vorresti fare Con loro Vuoi No 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 Io ti ho preso Be Apple Come esempio Ok No ma Va benissimo Come esempio Ma voglio capire L'obiettivo finale Qual è Cioè loro Sono rivenditori Ok Sì sono anche rivenditori Sono anche rivenditori Il loro obiettivo È acquistire più clienti O rivendere A vendere più Gadget O più prodotti Apple Sicuramente Aumentare il numero Di clienti Comunque hanno già Un buon numero Però Per aumentare Il fatturato Devi aumentare il numero Di clienti Sostanzialmente Poi Allora guarda Ti dico Cioè nel senso Rispetto a quello Che faccio io Già loro hanno Un business ibrido Perché hanno Sia delle cose In stock Che per Venderle Non devono fare nulla Se non avere O un e-commerce Cosa che hanno O comunque sia Guardate l'ordino Mi paghi Tac Ti arriva Ti arriva a casa E via Oppure Ci hanno Il servizio Che sono Ad esempio Le riparazioni Su qualsiasi cosa Sia telefoni Che mac Ok Di schermo Batterie E così via Allora lì Capito Vedi già lì Nel servizio Loro Ci hanno Ma come anche il mio Se ci pensi Loro hanno Il costo Della materia prima Che devono sostituire Più il tempo Che impiegano loro Per svolgere Quella riparazione E poi ci deve essere L'altra cosa Che è il guadagno Allora in questo caso Io Io principalmente Capirei Prima di tutto Qual è il margine Sulla riparazione Cioè Io porto un Un pc Un computer Apple Per riparare lo schermo Capisco il margine E da quel margine Io tolgo sempre Il costo pubblicitario Che mi serve per Acquistire il nuovo cliente Quindi devo capire Realmente Il nuovo cliente Quanto mi costa Quella è una cosa principale Cioè Il costo Del leads Di valore Deve essere Deve essere quasi La base Del sistema Perché una volta Che sai Quanto ti costa Più o meno Non sai mai Il costo preciso Però sai che Magari Per riparare un macbook Anche se Lo pago 100 euro Il potenziale cliente Certo Però me ne porta 300 Va benissimo Capito Come si fa A stabilire A conoscere Questo costo Di stima Ovviamente Allora inizialmente Devi sperimentare E poi bisogna vedere Anche lo storico Dell'azienda Cioè Se l'azienda Ha Mille clienti Su queste mille Quanti hanno portato Un macbook A riparare O quanti hanno Magari Fatto una spesa X In base A come L'hanno catturato Magari Quale cliente Cioè Quanto hanno speso Per catturare Quel cliente Magari hanno speso Che ne so Mille euro Per catturare Un cliente Che gli ha portato Solo 200 euro Bisogna capire Anche lo storico Dell'azienda Un conto Se è partito a zero Se è partito a zero Diciamo che È più semplice Puoi sperimentare E abbassare Anche il costo Ma Un'azienda Che è già partita È anno storico Devi lavorare Sullo storico Di quello che ha fatto In quel momento Giusto o sbagliato Che sia Poi si valuta Però in base A quello storico Piazzare E capire Fare dei conteggi E capire realmente Quanto ti costa Il singolo cliente Cioè Quindi ad esempio Se io ho speso Per dire No C'era Il primo esperimento Che ho fatto Da Instagram Quindi vabbè Lasciamo stare Che io Apparante ho fatto Il Instagram ads Con il link Comunque al funnel Ho speso 20 euro Quindi niente E ho avuto Praticamente Tre prenotazioni Quindi diciamo Tre lead Però di cui Uno Non mi aveva lasciato Il numero Quindi fai due Ok Aspetta Me lo segno Tre prenotazioni Quindi tre persone Che hanno prenotato Dal funnel Di cui Due Ci ho parlato Uno Non aveva lasciato Il numero Non sono riuscito A ricontattarlo Ma poi ho risolto Mettendo obbligatorio Il numero Se no Non puoi mettere in via Quindi ok Poi per le prossime volte Non c'è problemi Praticamente Se di quelle due Che ci ho parlato E quelle due persone Comunque sia Diventano clienti E iniziano a Pagare A comprare Un qualcosa Praticamente Io ho speso 10 euro A cliente Giusto? Quanto hai investito Sul Sulla pubblicità Diciamo 20 euro Più il costo Di fare il video 20 euro 20 euro Per quanti giorni? Ma erano Mi pare 5 euro al giorno Ok Ma me l'avevo fatto Pochissimi giorni Perché poi Ho iniziato a fare Quelle con il business manager Ok va benissimo Quindi con 20 euro Ho acquisito Tre prenotazioni Di cui Due Ti hanno portato Ad avere il contatto Effettivo E di queste due Quanti sono diventati clienti? Ma allora guarda In questo istante Ancora nessuno Cioè nessuno mi ha detto Ok si inizia Ti compro E si fa il lavoro Anche per questo Che voglio fare la 6 page Così lo posso subito Portare lì Perché uno Mi ha chiesto Praticamente Un preventivo Su I costi Di spot pubblicitari Da 15 secondi Per appunto Quindi riprese E montaggio Per un totale Di 15 secondi Per vendere ai clienti Per il suo portale Ok Lui c'ha il suo commerciale Quindi anche lui Lui sarebbe Quasi una specie Di affiliato Se ci pensi E invece un altro Erano dei videomaker Capito? Infatti Ho fatto quindi Ok no no È chiaro È chiaro Allora Diciamo che tu ora Hai solo dei costi Di acquisizione di contatto Ma non clienti effettivi Quindi tu Acquisizione di contatto Hai circa Hai detto Hai speso 5 euro al giorno Quindi hai circa 10 euro a contatto Che non è Non è basso Nemmeno alto È un costo medio Calcolo che Quello che faccio io L'acquisizione Arriva fino a 100-200 euro Che non è Altissimo ancora Però 100-200 euro Su un preventivo di X Per vendere cosa? Scusami Qualsiasi cosa Diciamo Qualsiasi cosa Che superi 2.000 euro Ah ok Comunque il tuo Ok Ma almeno Il mio standard È 100 euro Acquisizione Eh ma se ci pensi Luca Guarda che anch'io Non è che vendo cose Da 50 euro C'è anch'io Sì sì No no Quindi ci sta Che anch'io Abbiamo un costo Più o meno simile Però Però tu Hai avuto un problema Qual è stato questo problema? Che loro ti chiedono Lo sconto No 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 Allora Non è che me l'hanno chiesto Queste due persone In generale C'è un po' questo mood Ecco Ok Vabbè Comunque Quella è una questione Di posizionamento Dovresti un po' Magari Con il social Con questa campagna Che hai fatto Si diminuirà Però nel tempo È una questione Proprio di posizionamento Magari il tuo mindset È giusto Però il tuo posizionamento Magari non viene percepito così Quindi dovresti fare Un altro tipo di lavoro Lassopra Cioè Dipende Sì il copy Dipende un po' Come ti imposti Anche magari Personalmente Quando ti presenti al cliente Magari c'è qualche pecca Che ora non ti so dire Perché alla fine Non ci siamo mai visti Diciamo face to face Quindi non ti so dire No no Sicuramente Guarda Allora Questo ovviamente È una questione Che va oltre la sales page Comunque sì sì Allora il discorso Posizionamento Assolutamente Perché se tu dai Sai la regola è questa Se tu dai Ma infatti Quello che io Sto iniziando a fare Quindi sono in work in progress Ma abbastanza pratico Cioè Se tu inizi a fare Video O anche Percorsi di funnel Dove Prima di Dire ok Voglio lavorare con te Spieghi determinate cose Fai vedere Vedere determinate cose Ti rendi conto Che non è una cosa improvvisata E che semplicemente Io sono quello Che in questo momento Ne sa più di te 500 volte Ok E di conseguenza Immagino che sia successo Con Con i videomaker Che ti hanno contattato Quelli tramite Ok Loro hanno percepito Questa cosa di te Che tu ne sai più di loro Ma guarda È successo Con È successo Anche con quell'altro Con quel cliente Che ha il portale Perché Allora I videomaker Sono rimasti Allucinati da me In senso positivo Cioè Che Loro sono anche più grandi di me Perché io Quasi 24 anni Loro ne hanno una media Di 30 31 32 E loro mi hanno visto Super organizzato Super sul pezzo Ottimo mindset Ottimo marketing Ottima qualità dei video Quindi Wow Vogliamo lavorare Vogliamo che tu lavori con noi Mi hanno detto questa cosa qua E io Io ho ridetto Guardate ragazzi Mi fa molto piacere Ovviamente io Come già vi ho detto prima Io sto lavorando sul mio personal brand Quindi Non è che Non è che ho fatto un video Per dire Guardate Assumetemi Assolutamente Però Quello che Quello che già possiamo fare E Ho visto i loro video Sono belli Cioè hanno uno stile figo Quindi insomma Mi ha fatto piacere Che loro mi abbiano Cercato Selezionato Sì Perché videomaker bravi Non si trovano Quindi Avere questo tipo di risorsa organica Infatti anche loro Facceranno il mio stesso ragionamento E su quello concordo E infatti anche a me Fa piacere delegare Assolutamente Quando trovo persone Capito serie E che sono bravi Con la pratica Top Detto questo Io ho detto Guardate Possiamo iniziare Facendo degli esperimenti Fra di noi Quindi facendo Dei lavori insieme Sia pagati Sia lavori fra di noi Tipo che ne so Backstage B-roll No Quando andiamo anche a giro per Pisa Così almeno possiamo conoscerci Io gli ho dato quella Colto action Così almeno li posso conoscere Perché io non mi avvicino A nessuno Se non so Come ragiona Come lavora Come fa Cazzo Cazzo Cioè Io prima lo facevo Adesso non lo faccio più Perché ovviamente ho imparato Anche dei miei errori Si fa così Almeno Allora su questo Ti posso dare Uno spunto sui preventivi Vai Cioè Io sul preventivo Ti farei Aspetta che Allora tu hai detto Che fai Oltre a mettere il prezzo Vabbè Devi calcolarti un po' Quanto Quanto è il tuo Reale Costo di acquisizione Eccetera Quando fai il preventivo Cioè i tre preventivi Già preimpostati Fagli un mini Diciamo Quiz Che non è proprio un quiz Un mini percorso Dove dice chi è Cosa fa Con chi ha lavorato Quali sono i suoi obiettivi Cioè Fagli tante domande Sul Prima Prima di avere il contatto Cioè tu gli dici Metti nome Cognome Contatto E in più mi compili tutto questo Cioè il nome Cognome Contatto Deve essere quasi la fine Di questo Ma infatti Scusa se ti interrompo Volevo dirti che Uno dei tre tipi Di funnel Della lead generation Era usare All'interno di Click funnel Praticamente type form Tu se lo conosci Ok Sì 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 Ok ok Per fare proprio questa cosa qua Bravo Quello lo fai per due motivi In questo modo Valorizzi più i tuoi lead Cioè i tuoi lead Sono più di Come si può dire Sono scremati Sono scremati E più di valore Quindi dei lead Realmente forti E in più Hai in modo tu Di valutare i tuoi lead Nel caso Nel caso un cliente Magari non ti piace Non è che Non lo ignori del tutto Magari lo contate Gli dici Gli trovi una motivazione Per il quale Non vuoi collaborare con loro Certo certo Sì 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 Assolutamente d'accordo Sì sì Hai perfettamente ragione Sì sì Questo lo faccio Ma infatti lo voglio fare Anche in questi giorni Lo faccio subito Così Già hai Più profilato È più profilato Per quanto riguarda Il 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 calcolo Quanto mi costa a me Fare Che ne so Tot tutorial Tot spot E così via Ma Visto che si parla Praticamente Tantissimo Di contare le ore Cioè in questi casi qua Come si fa Perché Allora E poi dopo anche qui Il discorso è questo Quando tu O ingaggi dall'esterno Un videomaker Oppure Sei tu Che lo fai È Sia Quanta attrezzatura Hai Perché in base All'attrezzatura Posso darti un risultato Diverso Poi ovvio Ci sono cose Che danno più o meno Differenza Però per dire Adesso io sto Registrando con una Sony E con una luce Che comunque Fanno differenza Cioè io C'ho una Sony Che costa tipo 2000 euro Con un'ottica Molto luminosa Quindi mi fa un bello Sfocato È in automatico Il tracking Del volto E anche la luce È una luce particolare Che l'ho usata anche prima Per un mio cliente Per fare dei video Per la sua opt-in page E comunque È una luce molto morbida Che se usassi un faretto Che costa Costa 50 euro Non noterei mai Il risultato Quindi L'attrezzatura Cioè L'attrezzatura Porta a un buon livello Cioè Di qualità del video Poi tutto il resto Lo fa La capacità della persona Del saperlo usare Perché la direzione La potenza È quello È tutto in base A tu Se sei capace O meno A usarlo Quindi Questa cosa qua Secondo me Dovrebbe essere quantificata No? In qualche modo Allora Quantificata No Ma tu puoi far percepire Il tuo valore In questo caso Cioè Allora Quando si fa una campagna Di marketing In generale Diciamo che Il requisito base È la qualità Quindi se tu hai qualità Non ti puoi posizionare Oppure Ti puoi posizionare In una fascia bassa Siccome il tuo posizionamento Da quello che ho capito È comunque Una fascia alta Da quello che vuoi fare Non lo devi integrare Cioè tu Gli dai La tua consulenza Che vale tot Che poi ci sia Nella tua consulenza X Anche l'attrezzatura migliore A me cliente Può interessare Come non può interessare Qual è una cosa tua Cioè tu puoi dare Anche il massimo Con l'attrezzatura Minore Cioè l'attrezzatura Più scarsa che hai A me non interessa La percezione Deve essere alta Ok Quindi per dare una percezione alta Come si fa E quello è una cosa tua Di posizionamento Proprio del prodotto Del prodotto Del servizio Cioè quando parli con un cliente Anche solo il prezzo È posizionante Anche solo il tuo modo Di fare La tua imposizione Capito Quello fa tutto Ok Tu mi segui Nelle stories Sì sì ti seguo E il tuo modo di fare È molto amichevole Cioè è molto Ragazzi guardate Sto facendo questo Blablabla Ok va benissimo Diciamo che È un posizionamento Non molto di impatto Ma molto soft E allora Hai due risultati In questo caso Uno di essere apprezzato molto Come professionista E come persona Quindi la gente ti segue Anche se Magari non ti Non ti Non sei il leader del settore Capito Cioè ti segue Perché tu stai facendo Un percorso di crescita E questo percorso di crescita Nel lungo periodo Ti Ti dà un posizionamento alto Però nell'imminente no Quindi dovresti avere Un'imposizione un po' più Forte Però non farebbe parte Del tuo carattere magari Perché bisogna essere Sempre se stessi Sì sì Allora io ti dico Personalmente Io ti dico personalmente A me Fare anche un po' Il testa di cazzo Inteso come quello Che ti dice le cose in faccia Non ci sono problemi Ovviamente Tipo fare Big Luca no 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 Lui no Ma te lo conosci Quello lì Ragazzino di 19 anni Che ha fatto Un'intervista anche con lui Makovic Mi pare Del dropshipping Non so che sia Lui è un ragazzino Lui è un ragazzino Di 19 anni Che sembra molto bravo Lui sta a Dubai Anche lui Che si è trascendente Da Milano Da Dubai Ma da molto? Ma da qualche Da diversi mesi Forse è già un annetto Ah quindi Diciamo che è nuovo Si è abbastanza recente Comunque lui Si E praticamente lui Mi sono visto Mi era comparsa Una sola sponsorizzata Tipo mesi fa E poi me lo sono rivisto Che parlava in maniera Molto easy E poi me lo sono rivisto Recentemente In un'intervista Di Big Luca Perché poi Si è fatto tutti i corsi Anche la Si è fatto anche Il mastermind privato Lì da Da casa sua Perché erano insieme E lui comunque Si va a fare un bel fatto Cioè lui sta fatturando Diversi soldi E tutti i video Ultimamente Che sta facendo Sono tutti come Stile Big Luca Che se la tira Da morire Cioè ha proprio L'atteggiamento Proprio del cazzo Capito? Allora Quello fa parte anche Del carattere Calcola che Io Non sono Sono abbastanza Diciamo Se vogliamo dirla Umile Non mi piace Fare il cazzone di turno Certo Proprio detto Chiaro e tondo Certo Dipende anche Dalla persona Cioè non Non è detto Che fare il cazzone Sia posizionante Eh infatti Infatti perché Io ti dico Questo Questo Makovic Così mi sta un po' Sul cazzo Sinceramente No vabbè Non è quello Il posizionamento Della persona Cioè Il posizionamento Di Diciamo Di spessore Se proprio Vogliamo dirla così Puoi avere due modi O ne sei tanto E quindi io percepisco Che Tu sei più competente Di me E questo Puoi fare solo Con contenuti Valore Cioè tu Butti fuori Tutti i giorni Contenuti di valore Quel valore Viene percepito Dal tuo cliente O dal tuo potenziale cliente Che sei realmente Competente in quella materia Allora va bene Cioè io non Il loro posizionamento È un posizionamento Caratteriale Capito Cioè loro si impongono Caratterialmente Forti E così Pure se Diciamo Sono competenti O incompetenti O incompetenti Alla persona X Che non magari È profana Del discorso Dicono Ma questo Per come mi parla Forse Forse ne sa Capito Forse Però non Non è una certezza assoluta Perché Se mettiamo Facciamo un confronto Tra Loro Magari lui E uno che ne sa Magari quello che ne sa Mi dice Guarda questo Sì Caratterialmente è forte Ma in realtà Mi sta dicendo Un casino di boiate Certo Certo Ma poi ti dico Guarda Io personalmente Tu conosci Iman Gaji? No Eh lui è uno Lui è un tipo interessante Guarda poi cercatelo C'ha tipo 100.000 iscritti su Cioè uno che ha 19 anni Anche lui E che fattura Un sacro No È origine russa E sta a Londra Da quando era piccino Iman Gaji Lui fa Online marketing Cioè lui Ora ha lanciato Ha fatto un lancio Assurdo Di Si chiama Agency Incubator Lui spiega Come fare praticamente Le facebook ads Per i funnel Per le altre aziende Sostanzialmente Lo fa Lo fa sia lui C'è un'agenzia Che fa tipo 40.000 Al mese In membership Ovviamente Quindi ogni mese Pagano Si si è buono Ma anche di più Ora ha anche di più Di 40.000 E poi dopo La parte Cioè tipo nel 2018 Ha fatto Boh Più di mezzo milione Di corsi O anche di più No Ma una roba Ma tanto Tanto Cioè lui sta facendo Tanta roba Comunque la questione Di Big Luca O di quell'altro ragazzo Che mi dicevi 19 anni Si È perché la gente Comunque ha bisogno Di un leader Da seguire Esatto Quindi facendo Quel tipo di discorso È più facile Trovare adessioni Capito Si 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 Quindi è più ragazzi Che Insicuri Magari che si avvicinano A loro Perché Sentono questa sicurezza Certo Però non è sempre Quello il motivo Del posizionamento Ci sono tanti modi Per posizionarsi No no Quello è verissimo Verissimo Comunque Diciamo così Luca Che io ti dico Per dire C'è anche Aldo Ricci Per dire Non so se l'hai mai sentito Si lui L'ho sentito Però non Ok lui tra l'altro Ma tu sei Pugliese Tu sei Pugliese Vero Si Anche lui è Pugliese Non mi ricordo Di dov'è Però tipo lui Ora non so Adesso non lo seguo più Ma infatti per questo Non lo seguo più Cioè lui Tecnicamente è bravo Non è un Improvvisato Assolutamente Però c'ha un atteggiamento Troppo Cioè Non è Non è Big Luke Assolutamente Però tipo Nelle stories È molto cazzone Cazzone nel senso Che è uno Che scherza troppo O che fa il tamarro Cioè Per me è sbagliatissimo Ok No no Ok ok Calcola che ognuno Cioè Ognuno ha il proprio tipo di cliente Quindi magari Il mio cliente Non sarà mai il tuo Come un mio cliente Non sarà mai un cliente Del Big Luke Di turno O di qualcun altro Cioè ognuno ha il suo carattere E deve sviluppare La propria nicchia In base al suo carattere Ovviamente c'è chi piace E chi no Ma non puoi piacere a tutti Cioè La base del marketing Non piacere a tutti Bravo bravo È vero Quindi ci sta Ovviamente Ognuno deve trovare Il suo modo Di posizionarsi E farsi percepire Come tale Quello è importantissimo Poi Cioè Lo vediamo in un altro momento Anche la Ti do Ti do Vedere di persona Per questo No no Infatti Infatti Hai ragione Hai ragione Hai ragione Hai ragione Hai ragione Hai ragione Allora dipende 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 Sempre da chi ti segue E cosa La persona che ti segue Cosa vuole vedere Ok Se vuole vedere La tua parte Gentile Dove magari Lo sei sempre Non sto dicendo Che non lo sei Però vuole vedere Sempre quella parte lì Tu gli fai vedere Quello Però magari Non sei sempre così E va bene Però io Quello che dico Sì io sono sempre Un tipo così Se non mi fai cose strane Io sono tranquillo Sì sempre il più naturale possibile Poi magari Aggiusti un po' Nel tuo modo Magari di importi alle aziende Solo quello di Ma leggermente Nemmeno più di tanto Devono solo capire La tua competenza E che sei più competente Di altri Ok E' una questione di posizionamento Calcola che Una frase molto bella Del marketing È che non è mai Una battaglia di prezzi Ma è una battaglia Di sensazioni Quindi la sensazione Che tu gli dai Al tuo cliente E' la cosa più importante Che tu possa fare Poi ti dico anche una cosa Battaglia Com'è? Mi sto prendendo gli appunti Scusami Ah ok Allora Lorenzo Stefanetti Te l'avevo citato l'altra volta E' quello con cui volevo lanciare Cioè fare il funnel Per il corso E fare tutto Con click funnel Ti ricordi? Beh comunque Luca Il posizionamento È fondamentale Infatti mi devo mettere A fare i video Quelli fighi Assolutamente Hai ragione No il posizionamento In febbraio Faccio 800 video Ah no sta qua Il posizionamento è fondamentale Cioè senza quello Puoi fare ben poco Eh si Cioè più che altro Stavo dicendo Luca no che c'è un ragazzo Che si chiama Lorenzo Stefanetti Che lui fa online marketing E lui comunque è bravo Ha fatto sia un videocorso Che quello che mi sto facendo Comunque Cioè per alcune cose Approfondito Per altre cose Un po' più basi Tipo le facebook ads Non le spiega molto Nel dettaglio Nel dettaglio Però comunque le spiega Poi c'ha la sua agenzia Ho fatto io super figa No Però quando lui Ha fatto i primi video O ha fatto le sto Faceva le stories Perché me lo sono studiato Ovviamente Prima di contattarlo Ad agosto Ha sempre avuto Un modo di fare Molto da Uno stile Figo Infatti Io sono convinto Che Poi dopo Fortunatamente Ha fatto il rilancio Del videocorso Che è migliorato tanto Ma quando ho comprato Il videocorso Che si chiamava Social Media Marketing Revolution Ora si chiama Scaccomatto Presi il videocorso Con anche il Mastermind Dal vivo Quando ho visto I suoi video su youtube Che comunque Fatti con la Nikon O con il telefono Quindi anche audio di merda Oppure le stories Che faceva Io ho comprato Il suo lifestyle Attenzione Io ho avuto Proprio quella cosa Una percezione Di uno Figo Ho capito Che poi dopo Lui è un bel ragazzo Lui faceva il modello Poi se lo vedi C'ha i capelli fighi Barbettina Capito Tu lo hai percepito Come figo Nel suo ambito O come figo Proprio come persona No Ovvio che non sono una ragazza Quindi non è che dico Ah mi piace No Ovvio Però ho mischiato le cose Però ho mischiato le cose Capito Cioè io ho visto Che io tipo Vedevo Ma infatti Guardi ti dico questa cosa qua Nelle ultime tre settimane Ho sempre messo Che mi svegliavo alle quattro Ma era una storia di svera Perché mi svegliavo Boom No no ma ci mancherebbe Esatto ma Quella cosa lì Aspetta Quella cosa lì Ha colpito tutti Cioè quando sono stato Cioè quando sono stato Dal videomaker Mi hanno detto Oh ma te Minchia grandissimo Che ti svegli presto Ma perché lo fai Cioè proprio di stima Cioè ragionamento di stima Io ho spiegato Cioè io ho spiegato il discorso Ma Lorenzo Stefanetti Uguale Vedevo che si svegliava presto Oppure vedevo Che ne so Che si vestiva bene Oppure che aveva Che ne so Faceva Lavorava Ma aveva anche lifestyle Quindi era un mix Perché io ti dico C'è gente che lavora e basta Dico minchia che sfigati Cioè io non voglio il videomaker Che dice Sono depresso Io sono stressato Però sono felice Non sei felice Perché se lavora e basta E hai che ne so Anche mille euro in banca Non va bene Perché se ti vuoi piano a vacanza Se vuoi fare un giro Che cazzo fai Non puoi farlo Non va bene quella cosa lì Diciamo che quello fa parte Della libertà finanziaria E certo Cioè più sei libero finanziariamente Più puoi permetterti Di fare quello che vuoi Principalmente Uguale libertà Uguale libertà Esatto Capito Quindi questo Quello lì è un messaggio Molto forte E Lorenzo Poi comunque Nella realtà È uno che fattura Cioè Lorenzo guadagna Più di me Due anni meno di me Cioè io Mi ha anche affascinato Anche quella cosa lì Poi io ti dico Personalmente Io Angelo Dal punto di vista Di competenze Cioè Ne so Ne inizio a saperne Ma perché comunque Continuo a studiare Non perché ci sono nato Cioè come tutti Io comunque È una cosa Cioè io Mi sto molto appassionando Del marketing E quindi tipo Quando sono stato Ieri Ad Anami Che ne ho anche parlato Che erano molto timidi Nelle stories Cioè io ho parlato Per due ore Poi vabbè C'è il ragazzo cinese Che comunque Parla bene italiano Ma ha un carattere Un po' introverso Però comunque Sì io ho parlato Delle facebook ads Io ho parlato Dei video Iniziamo a fare video E E Comunque Mi hanno detto Ah wow Figo Oppure anche L'altro cliente Che è arrivato Tramite il funnel Quando gli ho spiegato Il discorso video Con le facebook ads Con il pixel E così via Ha detto Ah figo Capito Ascolta Questo perché succede Perché magari Loro non hanno competenze Di marketing Basi Basiche E quindi Vedono te Ora non sto dicendo Che tu Non sei competente Nel marketing Ok Non farai intendere Col che voglio dire La principale strategia Di marketing È da entrare primo Nella mente del cliente Quindi se tu ti sei presentato Come un videomaker Che sa di marketing Per loro non esistono Altre persone Non esistono Infatti lo dico anche io Questo Cioè tu ora Sei entrato nella loro mente Come quello che sa Sia di marketing Che di videomaker Esatto E va benissimo Questo è il posizionamento Migliore che tu possa avere Quindi il tuo obiettivo Futuro Sarà acquisire Clienti Con più o meno Lo stesso problema Cioè un problema Che cercano Un videomaker Che sappia di marketing E tu devi essere Il primo Nella loro mente Ecco perché Quando ti dicevo Angelo videomaker È molto lungo da ricordare Ti ricordi questa cosa Che tu hai detto È molto lungo da ricordare Magari se usavi Un nome Con al massimo Cinque lettere Sarebbe stato Il top Ecco perché dicevo Il tuo cognome Perché il tuo cognome È il tuo cognome Giusto? Sì È molto facile È molto facile da Ghelli È molto facile Ricordare Eppure se non lo abbini A videomaker Ti rimane in mente Sì Ma poi se ci pensi Adesso io già non più Sto facendo videomaking E basta Quindi Lascia stare l'ora Che io non me lo ricordavo Perché comunque Ripertiamo sempre Il 10% Di quello che ricordiamo Durante la giornata Quindi È vero È vero È quello Però il concetto è quello Capito? Tu devi entrare Primo Cioè l'obiettivo tuo Principale Deve essere Trovare gente Che non ne sa Né di marketing E magari nemmeno Di videomaker Ed entrare Primo nelle loro menti E questo lo puoi fare Con Facebook Ads Molto semplicemente Poi una volta Che hai fatto Il tuo posizionamento Tutto il resto Verrà da sé Ok Vedrai Che sarà tipo Una palla di neve Che diventa poi Una frana Capito? Diventa gigante Sì 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 Infatti La mia idea Era questa Cioè Allora Cioè di Ok Imparare sempre di più A fare le Facebook Ads Per me Avere una lead generation Quindi almeno Un paio di funnel Uno Capito? Con il type form Come mi dicevi tu Uno più semplice Anche per testarli Per acquisire il contatto Uno Per avere Le sales page Che sono tanto quelle E poi Quindi cosa ho fatto Ho tutta la parte Diciamo del sistema A meno base Di marketing Inteso Sia come creazione Del contatto Sia come vendita Perché nelle sales page Ci vuoi mettere Il checkout Capito? Io non voglio Che mi paghino solo Con il preventivo Dopo che vi hanno dato La fattura Sì sì voglio il video Vai vai Cioè lì Lo compri Come si compri Il pagamento anticipato Allora Io già Allora Negli ultimi Io ho iniziato A fare i video Dicendo Mi paghi almeno Il 50% In anticipo Io non ho mai Fatto un lavoro A parte Vabbè Multinazionali Come Aruba Che è un SPA Allora lì È tutto un altro discorso Però a parte quello Anche con le Lasciamo stare l'SPA Sì infatti Anche con le SRL Io mi sono sempre Fatto pagare Il 50% prima E poi consegna Lavoro Il pagamento finale Però io già Ad esempio Con Be Apple Mi faccio pagare Sempre il mese In anticipo Tipo loro mi danno 1660 euro Al mese Pagano Inizio il lavoro Pagano Inizio il lavoro No è giustissimo Sempre così E questo vabbè L'ho imparato da alcuni E non lo fa nessun videomaker Non esiste Cioè la gente 50% A 30% È già tanto No Mi devi pagare prima Poi ovvio Che se dobbiamo fare un lavoro Che ne so Che si tratta di 3, 4, 5 mila euro 10 mila euro Allora lei ci può stare Che mi paghi in 2 o 3 volte Però almeno 10 mila euro Almeno 3, 4 mila euro Mi devi dare subito Come minimo Per iniziare E poi tanto È chiaro Poi tanto io Ascolta Io sviluppo il lavoro a blocchi Nel senso Non mi paghi Ok sto fermo Non cazzi tuoi Capito Prendo le mie energie Su altri lavori Che sto facendo Capito Diciamo che il fatto Di pagare Di farsi pagare Sempre dopo A 60 A 90 giorni È una problematica Che ho riscontrato Solo in Italia Sì sì assolutamente Sai che principalmente Io lavoro fuori Fuori no Non esiste Questa cosa No no ma infatti Non ho mai avuto Nemmeno Non ho nemmeno Proposto Penso mai Non mi è mai Stato proposto Quindi il pagamento Viene fatto subito Esatto Anzi Pure il metodo Di pagamento Dicito io Sì sì ma infatti Io volevo fare Infatti con Stripe Metterci Carta di credito O di debito O di credito C'hai l'Amex Vai vai Usa quella C'è il problema Esatto sì Tanto poi Ti avedi Diciamo con l'Amex Quando pagarlo 30 giorni O quel direzione Sì no poi è buono Il fatto che È buono il fatto che Che loro Capito Hanno la carta di credito Col bonifico No Certo Almeno se uno vuole pagare Senza soldi reali Cazzi sua Beh sì Questo sì sì Giustissimo Giustissimo Io infatti Non so come fanno gli altri A farsi pagare 60 giorni Anche perché Sorgono dei problemi Di acquisizione Dei nuovi clienti Cioè tu non hai mai fondi Per reinvestire Quindi è un vero problema Secondo me No no ma infatti Assolutamente Comunque no Giusto per riassumere Io pensavo di fare così No di Finire questa parte Dimmi cosa ne pensi Finire la parte Di landing page Scusami Di opt in page Finire la parte Di 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 sales page Quindi tutto il sistema È In piedi Poi vabbè Si può perfezionare Ma comunque in piedi Dopo Posso fare tutto Quello che mi pare Sul posizionamento Perché tanto È tutto guadagnato Non devo sempre A rincorrere Un qualcosa Di Che non No 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 Cosa ne pensi Allora io Quello che ti consiglio Di fare È capire Prima di tutto Quanto ti costa il cliente Ok Ok in base a quello Gestisci tutto il resto Anche la tua parte Di Diciamo Quanto ti devono pagare Lo gestisci in base a quello Ok Perché Ripeto L'obiettivo È avere sempre più soldi Da investire In marketing O pubblicità Rispetto ai tuoi competitor Quindi se Oggi il tuo mercato È di riferimento Italiano Devi capire Il leader del settore italiano Quanto spende di budget E io cosa devo fare Per superarlo Ok Capisci un po' Queste due dinamiche Una volta capito Queste due dinamiche Ora devi sperimentare A mio parere Devi sperimentare Sperimenta e cerca di capire Chi è il tuo target di riferimento E con chi ti relazioni Soprattutto Dopo Dagli Ci facciamo un bel lavoro insieme Ok Quindi Devo guardare anche il leader Cioè Ti mi consigli anche Di guardare il leader del mercato Quanto spende Quanto spende Sì sì Vedi anche quello Devi vedere anche quello E anche capire Allora Guardalo Anche perché devi conoscere I tuoi competitor Magari non trattate Gli stessi prodotti Ma più o meno Sono gli stessi Lo devi conoscere Anche come Cioè La visuale dei tuoi competitor È importantissima Perché ti dà magari Qualche sfettatura Che tu non hai individuato Però loro l'hanno individuato Lo stanno sfruttando Bravo bravo Fai benissimo Quindi quello Devi guardare sempre Senti Va bene Allora io senti Io ora Ti dico Quello che ti sto aggiornando Proprio Io sto facendo con ClickFunner Non ho fatto il product launch formula Perché ovviamente Non è un videocorso Ma La sales page Di un prodotto Quindi tipo Adesso mi ha impostato Tipo 5 parti addirittura 5 in modi diversi Quindi insomma Sto facendo questa cosa qua E per adesso Ho già buttato Ecco Però anche Quindi i prezzi Mi vorresti dire Che il prezzo Lo devo fare per forza In base al costo del cliente Però se io ad esempio Non per forza Cioè tu più o meno Sai ora un cliente Quanto ti costa Cioè Sempre il tuo storico Tu non parti proprio da zero Tu qualche cliente Ce l'hai Eh però Però Vedi Il problema è che Io ho sempre fatto Da passaparola O chiamato a freddo O contrati a freddo Ok Quel passaparola Quanto ti è costato in passato Cioè Non voglio dire Che tu hai preso Hai preso i soldi E hai dato una persona Per dire Guarda Dili che io sono bravo Però devi capire Quanto tempo ti ho occupato E in quel quanto tempo Quanto è speso Magari per fare anche Un bigliettino da visita Ti faccio un esempio Cioè Capisci un po' I costi che hai Poi dai costi Valuti Quanto Come posizionarti In poche parole Cioè io voglio Quello che non sono riuscito a capire Che ti avevo fatto inizialmente Cioè Quali sono i tuoi costi iniziali Cioè Oltre pubblicità Oltre l'attrezzatura Oltre le persone Cioè Tu Con 600 euro Realmente Quanto guadagni 600 1800 No no Certo Ma guarda Non lo so Capito Questa è una cosa Che devi capire Cioè Poi a un certo punto Non diventa tanto importante Da dove viene Ma Però Devi capire Almeno la base Di quanto ti costa Un lavoro Perché in base a quello Tu valuti Tutto il resto Cioè Se un lavoro Dove spendi 600 Cioè Dove guadagni 600 Ne spendi 550 Tu hai solo 50 euro Per avere Il tuo prossimo cliente 50 euro Per Diciamo La nicchia che vuoi raggiungere Stai molto ristretto Cioè È difficile poi Andare avanti E questo ti voglio dire È come vendere un prodotto Da 10 euro E ne guadagni 2 Cioè Con 2 euro Come fa l'acquisizione del cliente Allora Quanto dovrebbe essere Una proporzione Me lo puoi dire? Non c'è una proporzione Diciamo Perfetta Quello che ti dico io è Quanto ti vuoi strutturare Quanto grande vuoi diventare In basso a quello Ti regoli Guarda il mio obiettivo Ah dimmi dimmi scusami Devi capire Devi calcolare sempre questo Che Se ti vuoi strutturare di più Vuol dire che devi mettere Dei costi che oggi non hai Quindi per esempio Se oggi è 50 euro Il tuo costo E ti vuoi strutturare di più Quindi devi fare Diciamo di scalare Il tuo business Devi calcolare Che non ci sarai tu Dietro a tutto questo Magari ci sarà Uno che si occupa di Facebook Uno che si occupa Dell'acquisizione dei clienti Uno che si occupa Delle chiamate E così via Cioè Devi valutare già tutto questo Magari non li metti Nei costi di oggi Ma nei costi futuri Già devi avere un'idea Più o meno Giusta Sbagliata Ma la devi avere Mi segui? Ottimo ragionamento E in tutto ciò Devi mettere anche La spesa del tuo prossimo cliente Cioè quanto ti costerebbe Il tuo prossimo cliente Quindi ovviamente Nella costa del prossimo cliente Ci devo mettere anche L'abbonamento di ClickFunnels Esatto Esatto Tutto A Weber A Ads ovviamente Eh sì perché poi Fai un profitto lordo Non netto Tu devi vedere sul netto Tolto tasse Tolto tutto Cioè l'obiettivo è Magari voglio fare 100.000 euro Al mese Sei netti Capito Vuol dire che lordi In Italia Devi fare almeno il doppio Sì Cioè il mio obiettivo Il mio obiettivo era È assolutamente Quello di arrivare a fare Le sei figure Quindi 100.000 euro All'anno Come base Per la parte video Poi Escluso videocorsi Escluso Consulenze Mastermind Così via 100.000 euro Di video Non so ora Poi ne parliamo In Un altro momento Però Devo capire realmente Ora quanto stai E quanto hai Possibilità di scalare Perché diciamo che La scalabilità del business Parte tutto Al tuo mindset Cioè da Da che Da come lo vedi Il tuo business Cioè Poi la struttura Di come ti devi strutturare Si vede dopo Diciamo che In sei mesi Io do tempo Sei mesi Per la scalabilità Perché questo Perché tu devi stare Per i primi sei mesi Diciamo Non voglio dire H24 Sul tuo business Ma quasi Cioè devi capire Realmente tutti i meccanismi E come automatizzarli Quindi che ne so Facebook Oggi funziona così Se metto un'altra persona Io so esattamente Cosa fa quella persona Posso seguirlo Posso capire Se fa bene o meno Una cosa Quindi diciamo Che ci vogliono sei mesi Per capire Ogni ruolo Che devi andare a rimpiazzare Una volta fatto quello Diciamo che diventa Più semplice Scalare il business Però devi capire Realmente Chi Cioè chi vai a scegliere È la persona giusta Può fare Quello che facevo io E poi ti devi un po' fidare Insomma Quella poi Ah io ti dico Per adesso Sì sì no Quello comunque Ho capito Sì sì ma infatti Le domande che mi sono sempre fatto Su discorso A me piace delegare Ma la persona deve essere Una persona Soprattutto di testa Buona Perché se no Non ci saranno parti Poi devi Devi valutarle tu Insomma Chi è più Con il tuo stesso mindset Nel tuo stesso asset Diciamo Magari lo formi tu Perché io quello che faccio È formare Poi una volta che è formato Più o meno Ragiona come me Non dico che ragiona come me Però più o meno Sa come ragiono io Quindi siamo Sulla stessa lunghezza d'onda E possiamo Continuare a lavorare insieme Perché se poi Viene il sapientone di turno Oppure chi dice No quello che hai fatto è sbagliato Là diventa un problema Capito Poi io sono aperto sempre A nuove idee A nuove cose Cioè do sempre libero Spazio Quanto vogliono Di ideare Progettare Però Capito Un minimo Ci deve essere Un po' di compatibilità Esatto Questo è quello che voglio dire Guarda comunque No perfettamente d'accordo Va bene Ascolta Io Vabbè comunque Il primo step Che ora vado a fare È il Sì devo capire il costo Il costo Vettile Sì quello Quello è essenziale Devi capire un po' il tuo costo Che magari Allora Ti dico Il primo periodo è sempre il periodo che ti costa meno Il problema è dopo Quando vai più avanti Che aumenta sempre di più Quindi io ti consiglio nel primo periodo di monetizzare il più possibile In modo tale che quando vai avanti Il costo Pur essendo più alto Puoi affrontarlo Ok Questo è importante come costo È molto importante Perché molti magari Non valutano bene questa cosa qui Quindi valutala Che nel tempo andrà sempre a crescere il tuo costo Però la cosa positiva è che se tu lavori anche di personal brand Di posizionamento In teoria potrebbe essere più facile acquisire O avere clienti di più qualità Non diventa più facile Ti aiuta ad avere un costo minore nel tempo Però i costi del singolo aumentano sempre Cioè aiuta a contrastare questa cosa qui Però è una questione a lungo periodo Beh comunque aspetta Per affrontare Io ho altri 5 minuti poi devo scappare Sì sì no ma infatti Ma anch'io no ma infatti guarda Ascolta possiamo interrompere anche qua Quella c'è un ufficiale del video Comunque ma te da dove hai studiato te Luca? Eh io ho studiato in giro Da tutto e da tutti soprattutto Da tutto e 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 tutto e